Qualcosa Nel pensiero stabiliamo un contatto e nella parola ci illudiamo di esaudirlo quando sappiamo entrambe che sussiste un oltre pieno di tutto ciò che ci sfugge Uomo Non sia il movimento di tre lancette a condizionare la tua capacità di traslare tra tre articolazioni di temporalità Odi e ami il tempo nello stesso momento ma qualcosa ti ricordi che sei votato all'eternità e immediatamente il tuo demone si plagi Grazie a tutti Grazie a tutti